Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Operatori di accoglienza. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Operatori di accoglienza perché dobbiamo accogliere gli immigrati, capire la loro condizione, perché se sono arrivati da noi è perché stanno soffrendo un amore strappato e che non ha più senso e pudore perché è stato violato dalla forza esterna. Gente che fugge dai propri paesi e ha visto saltare in aria a case, ha visto trucidare la propria famiglia davanti ai propri occhi, hanno nei loro occhi il segno della disperazione. Dobbiamo quindi vedere questi sguardi sconvolti e avere verso di loro un aiuto, un'attrazione, come fu per Cristo risorto che cercava comprensione. Così loro cercano comprensione verso di noi. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Operatori di accoglienza. A te che accogli un immigrato, sapi capire la sua condizione, lui soffre di un amore strappato, senza senso e senza pudore. A te che lo guardi sconvolto, abbi verso di lui una reale attenzione, come fu per il Cristo risorto che nel mondo cercava comprensione. Sappi essere buono e alleviare le sue profonde ferite del cuore, affinché il suo risorgere possa dargli una giusta soluzione. Operatori di accoglienza, è in voi il forte richiamo del misero, che cerca disperatamente più che mai la comprensione e la pace del mondo. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.